Al pari di Roberta Bruni ma che l'ha vista poi mettere a segno un 4.50 decisamente rocambolesco per come è arrivato una seconda prova che l'aveva vista superare l'asticella che l'ha beffata dopo aver oscillato per una manciata di secondi e una terza prova invece decisamente convincente in cui ha ottenuto il primato personale Sonia Malavisi terza prova quota 4.56 per consolidare vediamo se l'ultimo salto no è il salto della è il 4.50 del primato personale certifica generale di questa gara di salto con l'asta femminile